Tutti contro tutti, vediamo che sai fare Abbiamo un radar personale pronto a colpire copertura Ricevuto, Jaguar 3-0 in arrivo con copertura radar personale UAP di disturbo nemico online Un radar 3-0, radar personale a secco, rientriamo UAP nemico in volo Radar personale nemico in volo, ha puntato qualcuno Bombardamento di precisione nemico, a riparo Ok, ok Bombardamento di precisione nemico! Arribaro! Bombardamento di precisione nemico! Bombardamento di precisione nemico! Bombardamento di precisione nemico! Bombardamento di precisione nemico! Approvvigionamento alle vittime in arrivo! Qui, Jaguar 3-0. Radar personale a secco. Rientriamo. Abbiamo un radar personale, non posso dire copertura. Radar personale nemico in volo. Appuntato qualcuno. Torretta scudo nemica schierata. Abbiamo un radar personale pronto a fornire copertura. Ricevuto. Jaguar 3-0 in arrivo con copertura radar personale. Torretta scudo nemica schierata. Attacco a grappolo nemico. Arrivare. No! Radar personale abbattuto. Scansione dei bersagli offline. Anche Science Arena. Alla prossima. UAP nemico in volo. Abbiamo un radar personale pronto a fornire copertura. Ricevuto. Jaguar 3-0 in arrivo con copertura radar personale. Siete quasi in testa, forna! Approvvigionamento nemico in arrivo. Meno di un minuto! Qui Jaguar 3-0, radar personale a secco. Rietriamo. Abbiamo un radar personale pronto a fornire copertura. 30 secondi! Tempo scaduto! Muoversi! In arrivo con copertura radar personale. Missione compiuta! Extraordinario! Extraordinario! Perfetto! Pozzajate! Oh... Wow! Ui! Grazie a tutti.